Ciao a tutti e benvenuti nel canale di Android Fai. Oggi vi parlerò di un problema che è noto molto spesso con il download delle app dal Google Play Store, ovvero questo prodotto non è disponibile nel tuo paese. Questo è un errore che vedo molto spesso ed è a causa del profilo pagamenti del vostro account Google. Se vedete questo problema, non è un errore del Google Play Store, ma una problematica del profilo pagamenti. E ve lo spiego come risolverlo, è molto semplice. Quando vedete questo errore, la prima cosa che dovete fare è aprire pay.google.com e andare sulle impostazioni del vostro profilo. Qui potete vedere se il paese del vostro profilo Google che state usando sul Google Play Store risulta essere Italia. Nel mio caso è Italia, ma se nel vostro caso capita di vedere un paese diverso, la cosa che dovete fare è cliccare sulla penna e cliccare su Crea nuovo profilo. Vi verrà chiesto di confermare che volete creare un nuovo profilo pagamenti e cliccare su Continuo. Quindi a questo punto scegliete il paese dove volete farlo e vi informo che il cambio può essere fatto solo una volta ogni 365 giorni. Quindi state attenti a non sbagliare. In questo passaggio al momento il cambio non è pericoloso nel senso che vi si blocca. Però una volta scelto il paese dovete dare conferma, inserire il vostro indirizzo di fatturazione o comunque il vostro indirizzo fiscale non viene usato da Google per sapere dove abitare, ma è per le ricevute dei pagamenti che farete se comprate app, abbonamenti o acquisti in app nei giochi o applicazioni. Fatto questo passaggio non è conclusa il cambio del paese, perché questo qui l'avete fatto sulla parte web del vostro account. Ora dovete insegnare al vostro Play Store la vostra applicazione di scegliere il paese giusto. Adesso io al momento non ho il cellulare qui sotto mano per fare il cambio del paese, ma se andate sulla guida Modificare il paese in Google Play vedete sul video come effettuare il cambio. Dovete andare, cliccare sull'icona del vostro profilo, Impostazioni, Generale, come state vedendo qui, adesso ingrandisco un attimo, adesso qui in inglese ma vabbè e su Preferenza account e dispositivo vi dovrà scegliere Paesi e profili. E' qui che dovete essere sicuri che venga selezionato Italia. Mi raccomando, in questo cambio dovete fare attenzione di selezionare il paese corretto e la procedura potrebbe richiedere fino a 48 ore. Qui inoltre vi chiede anche di aggiungere un mese di pagamento, quindi vi consiglio di aggiungere una carta di debito momentaneamente e poi dopo rimuoverla. E' solo per fare in modo che si sincronizzi e questo cambio paese sia autenticato. D'accordo ragazzi? E mi raccomando, tra altri consigli che vi posso dare, quello di assicurare di avere una sim italiana, di non usare VPN, cioè cercare di forzare il paese da un altro paese in quale non siete. Per esempio, se siete in Francia e volete fare un profilo italiano, questa procedura non penso che funzionerà, quindi fatelo in modo legittimo. Non ci dovrebbero essere anche abbonamenti attivi, quindi se avete tipo un abbonamento di Netflix o Google One, Stadia, vi tocca cancellarli e una volta cancellato l'abbonamento dovete rifarlo quando scade. Ma non è un problema di solito per questi tipi di abbonamenti, li potete ricominciare o cercare di chiedere con l'assistenza di rifarlo o riattivare. Questo è il consiglio che vi posso dare. Una volta comprato questi passaggi, provate a riaprire il Google Play Store e cercare di scaricare l'app. Se continuate a vedere questo messaggio di errore, provate a cancellare cache e dati dell'applicazione Google Play Store. Non perderete nessun dato, non vi preoccupate.